Disinfettanti, igienizzanti, detergenti. Il coronavirus in queste settimane ci ha costretto a prendere confidenza con tutta una serie di prodotti che non erano per molti di noi di uso quotidiano e frequente, ma che la necessità di sanificare oggetti, superfici, confezioni di prodotti acquistati ci ha imposto invece di conoscere ed usare. Ma essendo prodotti chimici o di tale natura bisogna usarli con grande attenzione e seguendo attentamente le istruzioni d'uso. In questo ci viene incontro anche il gruppo dell'Istituto Superiore di Sanità Comunicazione Nuovo Coronavirus che trovate sul sito istituzionale che ha messo online tutta una serie di istruzioni per l'uso. Non mescolare più prodotti insieme, pensando di ottenere così uno più potente contro il virus. Vietato fare gli apprendisti stregoni, quindi si corre il rischio di esporre voi e i vostri familiari a sostanze pericolose che si possono formare durante la miscelazione. Arieggiare bene i locali trattati. Spesso i prodotti utilizzati per la disinfezione contengono sostanze volatili che possono provocare irritazioni e tossicità o reazioni allergiche pericolose. Fare attenzione alle etichette. Attenetevi strettamente e sempre alle istruzioni indicate. Gli adulti faranno in questo periodo la guida ai più piccoli che ancora non sanno leggere le etichette dei prodotti. Divertitemi con loro, come in un gioco, a ripassare il significato dei simboli, i pittogrammi riportati sulle confezioni che indicano la pericolosità e la composizione dei prodotti. Infine, non lasciate queste sostanze o queste confezioni dei detergenti incustoditi. In questo periodo in cui i figli, soprattutto i più piccoli, hanno tutto il tempo per gironzolare ed esplorare la casa, in lungo ed in largo, possono venirne a contatto. Le statistiche dimostrano, infatti, purtroppo, che nei periodi in cui i bambini stanno più a casa, il rischio di intossicazione aumenta. Igenizziamo, quindi, sì, ma in sicurezza.